Il terzo segreto di Fatima è una delle più curiose predizioni relative alla Chiesa. Ci troviamo sull'orlo di assistere allo svolgersi di una rivelazione divina o c'è qualcosa di più in questa storia di quanto appaia? Unisciti a noi in questo viaggio, mentre esploriamo i messaggi criptici, esaminiamo il contesto storico e riveliamo la scioccante verità sul perché il terzo segreto sta per essere rivelato quest'anno. Prima però ti chiediamo solo una gentilezza. Iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare. I tre segreti di Fatima sono una serie di visioni profonde e profezie rivelate da tre giovani pastori portoghesi, Lucia Santos insieme ai suoi cugini Ginta e Francisco Marto, nel 1917. Il trio ha affermato di aver incontrato la Vergine Maria in sei occasioni separate tra maggio e ottobre di quell'anno e questa visita celeste è ora conosciuta come Nostra Signora di Fatima. Avanziamo velocemente al 13 luglio 1917, intorno a mezzogiorno, quando accadde qualcosa di straordinario. La Vergine Maria, nella sua divina saggezza, affidò ai bambini tre segreti. Fino al 41 questi segreti non furono svelati attraverso un documento scritto da Lucia in risposta alla richiesta del vescovo José Alves Correia da Silva. Le rivelazioni erano intese ad assistere nella pubblicazione di un libro su Ginta, ma è qui che le cose iniziano a diventare davvero misteriose. Il terzo segreto, avvolto nel mistero, richiese un po' più di tempo per emergere. Nel 43 il vescovo incoraggiò Lucia a rivelarlo, ma lei esitò, non completamente convinta che Dio le avesse dato il chiaro via libera. Tuttavia il vescovo insistette e nell'ottobre 43 Lucia scrisse il segreto, sigillandolo in una busta e dando istruzioni rigorose di non aprirlo fino al 60, credendo che allora sarebbe apparso più chiaro. Il contenuto di questo enigmatico segreto fu finalmente divulgato da Papa Giovanni Paolo II nell'anno 2000, sebbene alcuni scettici sostengano che potrebbe non essere l'intero segreto. Il Vaticano rimane fermo nelle sue affermazioni. Ora, quali sono questi segreti? L'interpretazione cattolica suggerisce che riguardano questioni profonde come l'inferno, gli eventi tumultuosi della Prima e della Seconda Guerra Mondiale e le persecuzioni affrontate dai cristiani nel XX secolo. Approfondendo il regno delle apparizioni mariane, vale la pena notare che, tra le centinaia indagate dalla Chiesa Cattolica, solo 12 hanno ricevuto la sua approvazione ufficiale. Sorprendentemente, nove di questi eventi si sono verificati tra il 1830 e il 1933. Questa piccola frazione di eventi riconosciuti invita alla riflessione sulla loro significatività. Gli antropologi culturali Victor ed Edith Turner, che abbracciarono il cattolicesimo nel 1918, una volta videro la crescita dei culti delle apparizioni mariane come una reazione da parte di una classe media inferiore e marginata che lottava con i rapidi cambiamenti della cultura post-industriale. Ora, concentriamoci su Lucia Santos, una delle figure chiave nelle rivelazioni di Fatima, e qui le cose diventano davvero interessanti. All'età di 14 anni, fu mandata alla scuola delle suore di Santa Dorotea a Vilar, vicino a Porto. Nel 1928, Lucia fece il prossimo passo, diventando una postulante nel convento di Dorotea a Tui, appena oltre il confine spagnolo. Incredibilmente, per tutta la vita, Lucia continuò a riferire visioni private e intermittenti durante gli anni Trenta. Il Vescovo di Leiria incoraggiò Lucia, che adottò il nome religioso di Suor Maria Lucia di Gesù, a scrivere le sue memorie. Questo sforzo mirava a svelare più dettagli sui suoi cugini e sulle apparizioni del XVII. Interessantemente, l'idea di un segreto affidato ai bambini durante le apparizioni emerse già nel luglio XVII. Lucia accennò che questo segreto aveva conseguenze sia buone che cattive per diverse persone. Tuttavia, non fu fino alla sua terza memoria, composta nel 1941, che si addentrò più profondamente nel contenuto dei segreti. In un modello simile alla visionaria francese Melanie Calva, che rivelò i segreti dell'apparizione di Nostra Signora di La Salette quasi due decenni dopo, Lucia divulgò che i segreti avevano tre parti. Le prime due furono svelate nel 1941, con la terza impegnata su carta il 3 gennaio del 1944. Durante la metà del 1943, quando Suor Lucia, con le sue sorelle Dorotè e Atui, Spagna, si ammalò gravemente, temendo che la sua vita potesse svanire prima che potesse rivelare la parte rimanente del segreto, il vescovo di Leiria le chiese con urgenza di mettere penna su carta. In obbedienza e nel mezzo dell'agonia della sua malattia, Suor Lucia trascrisse faticosamente il terzo segreto su un singolo foglio di carta. Con solenne cura, lo mise all'interno di una busta, sigillandolo come prova della gravità del suo contenuto. Prima di addentrarci nella testimonianza di Suor Lucia, è cruciale considerare le parole dell'allora cardinale Joseph Ratzinger. Egli fornisce contesto alla rivelazione, riconoscendo le speculazioni e le controversie che hanno avvolto il terzo segreto per molti anni. Nel suo commento teologico intitolato Il messaggio di Fatima, il cardinale Ratzinger nota che il contenuto della busta, a lungo custodita, potrebbe essere deludente per alcuni. Il cardinale Ratzinger afferma che un esame attento del terzo segreto potrebbe non risolvere un grande enigma o presagire eventi futuri. Piuttosto, presenta la chiesa dei martiri del secolo appena concluso in un linguaggio simbolico difficile da comprendere. Esaminando le rivelazioni di Fatima, C. si chiede sulle intenzioni dietro una comunicazione dalla madre del Signore al cristianesimo e all'umanità, in un momento di grande tumulto. Queste lezioni si applicano ai problemi che affronteremo quest'anno o sono semplicemente finestre nella mente di bambini cresciuti in un ambiente di intensa religiosità, ma anche influenzati dagli alti e bassi del loro tempo? E in che senso questa visione è significativa? E come dovremmo interpretarla ora? Ora, diamo un'occhiata a cosa è successo in ciò che i tre giovani pastori hanno testimoniato. E qui diventa davvero scioccante. Nel 43, Suor Lucia, per obbedienza a Dio, al Vescovo di Leiria e alla Santa Madre, scrisse la seguente descrizione della terza parte del Segreto Rivelatole e ai suoi due cugini il 13 luglio 17. Scrivo in obbedienza a Te, mio Dio, che mi comandi di farlo tramite Sua Eccellenza, il Vescovo di Leiria, e tramite Tua Santissima Madre e mia. Dopo le due parti che ho già spiegato, a sinistra di Nostra Signora e un po' sopra, abbiamo visto un angelo con una spada fiammeggiante nella sua mano sinistra. Brandendola, emetteva fiamme che sembravano voler incendiare il mondo, ma si spensero a contatto con lo splendore che Nostra Signora irradiava verso di lui dalla sua mano destra. Puntando la terra con la sua mano destra, l'angelo gridò con voce forte «Penitenza! Penitenza! Penitenza!» e videro vescovi, sacerdoti, uomini e donne religiose salire una ripida montagna, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come di un albero di sughero con la corteccia. Prima di arrivare lì, il Santo Padre attraversò una grande città a mezza in rovina e mezza tremante con passo incerto, afflitto da dolore e tristezza, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava sulla sua strada. Avendo raggiunto la cima della montagna, in ginocchio ai piedi della grande croce, fu ucciso da un gruppo di soldati che spararono proiettili e frecce contro di lui e allo stesso modo morirono uno dopo l'altro gli altri vescovi, sacerdoti, uomini e donne religiose e varie persone laiche di diversi gradi e posizioni. Sotto le due braccia della croce c'erano due angeli ciascuno con un aspersorio di cristallo in mano nel quale raccoglievano il sangue dei martiri e con esso spruzzavano le anime che facevano il loro cammino verso Dio. Le scene raccontate da Suor Lucia sono a dir poco intense e vividamente descrittive. Ci si può solo immaginare l'impatto sui tre giovani visionari mentre ricevevano i profondi segreti profetici di Fatima in quel giorno significativo. Le parole e le visioni concesse da Dio e dalla Santa Madre non sono confinate al passato risuonano come un messaggio per tutti noi. L'interpretazione di Suor Lucia del Terzo Segreto condivisa quasi quattro decenni dopo nel maggio 82 in una lettera a Papa Giovanni Paolo II getta luce sulla natura simbolica della rivelazione. Nelle sue parole spiega che la terza parte del segreto si riferisce alle parole di Nostra Signora. Se non, la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo provocando guerre e persecuzioni della Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno annientate. Questa interpretazione inquadra il Terzo Segreto come una rivelazione simbolica legata a un aspetto critico del messaggio. L'accettazione o il rifiuto delle richieste in esso contenute. Se le mie richieste saranno ascoltate la Russia si convertirà e ci sarà pace se non diffonderà i suoi errori in tutto il mondo. Infine, la tanto attesa rivelazione del Terzo Segreto di Fatima si è svolta. La Congregazione per la Dottrina della Fede sottolinea che la decisione di Papa Giovanni Paolo secondo di rendere pubblico questo segreto segna la conclusione di un periodo storico segnato dalla brama umana di potere e dal male, ma anche da un periodo pieno dell'amore misericordioso di Dio e della cura vigile della Madre di Gesù e della Chiesa. La narrazione di Fatima sottolinea due pilastri fondamentali che plasmano la storia umana. L'azione di Dio, il Signore della storia, e la corresponsabilità dell'umanità nel dramma della sua libertà creativa. Nostra Signora che a grazia Fatima con le sue apparizioni ravviva questi valori dimenticati ricordandoci che il futuro dell'umanità riposa in Dio. Sottolinea che non siamo osservatori passivi, ma partner attivi e responsabili nella creazione del nostro futuro condiviso. Il terzo segreto, custodito fino al Sessanta, ha segnato un momento cruciale nella storia della Chiesa. Suor Lucia, incaricata del segreto, ha incontrato resistenza nel rivelarlo, ma ha assicurato il suo posizionamento negli archivi segreti dell'Ufficio Santo nel Cinquantasette. Papa Giovanni XIII, nel Cinquantanove, esitò a divulgare il segreto e Papa Paolo VI, nel Sessantacinque, scelse di mantenerlo sigillato, restituendolo agli archivi. Il velo di segretezza persistette fino a un momento cruciale, seguendo il tentativo sulla vita di Papa Giovanni Paolo II nell'81. Si rivolse a Fatima per consolazione, leggendo il terzo segreto, credette che la Santa Madre fosse intervenuta, risparmiando la sua vita nel sessantaquattresimo anniversario delle sue apparizioni. La controversia che circonda la rivelazione pubblica nel 2000 con dubbi sull'autenticità e teorie del complotto, in risposta ai dubbi, la Congregazione per la Dottrina della Fede, nel Messaggio di Fatima, ha sottolineato l'autenticità del testo rivelato. Suor Lucia ha confermato la versione del Vaticano, affermando che tutto era stato pubblicato e che non rimaneva alcun segreto. Qualsiasi nozione di rivelazioni nascoste è stata dissipata con Suor Lucia, che dichiarava che, se avesse ricevuto nuovi messaggi, li avrebbe comunicati direttamente al Santo Padre. Prima della sua morte nel 2005, Suor Lucia ha assicurato che le parole e i messaggi della Madonna fossero rivelati al mondo al momento opportuno. La consacrazione del mondo, inclusa la Russia, al cuore immacolato di Maria, era stata fatta in modo appropriato, soddisfacendo i desideri della Madonna. La controversia che circonda il terzo segreto, alimentata da speculazioni e sospetti, è stata affrontata, portando un senso di chiarezza e finalità alle storiche rivelazioni di Fatima. Grazie per averci seguito. Alla prossima! Grazie per aver guardato il video!